Credo che tre giorni, quattro giorni, prima della gara uno dei playoff, bisogna anche analizzare le partite in quell'ottica. Noi abbiamo avuto un buonissimo impatto, abbiamo giocato nel complesso una buona partita per prepararci a questa serie, abbiamo provato a ribaltare la differenza canestri, a vincere, abbiamo fatto quello che dovevamo. Siamo andati nel primo tempo un paio di volte in vantaggio di 5-6 punti, giocando il pallone, forse lì abbiamo o qualche volta cercato il tirone per andare subito avanti, peccando un filo di fretta, non velocità, perché noi siamo una squadra che comunque si esprime in quel modo, quindi possiamo cambiare testa improvvisamente, però un pochino di fretta e la seconda volta dovevamo aggiustare qualcosina in difesa. Primo tempo. Questo secondo me non ha portato a andare nell'intervallo con quei 5-6-7 punti che si potevano costruire. Nel secondo tempo abbiamo fatto qualche errore di troppo da quel punto di vista e onestamente su un mix di situazioni che sono ovviamente la squadra avversaria, perché noi dobbiamo creare le condizioni per avvicinarci partita per partita alla forza di Avellino.